Sala 10. Serpente a sonagli. Il serpente più conosciuto è il serpente a sonagli o crotalo, del quale ne esistono oltre 40 specie in tutte le Americhe. Questo serpente è conosciuto per la pericolosità dovuta al morso velenoso. Supera la lunghezza di un metro e mezzo e arriva a pesare fino ai 6 chilogrammi. Il corpo è ricoperto di squame e la colorazione è mimetica per poter sfuggire ai predatori e tendere agguati alle proprie prede. La testa è triangolare e tra l'occhio e la narice è presente una fossetta che contiene dei recettori in grado di percepire il calore emanato dalla preda. Il serpente a sonagli quindi può cacciare anche al buio ed uccide la vittima grazie al suo mortale veleno, presente all'interno di ghiandole poste nella bocca e iniettato durante il morso tramite lunghe zanne cave. La coda dalla quale prende il nome presenta all'estremità degli anelli di pelle indurita, residui della muta, i quali formano una struttura simile ad un sonaglio. Quest'ultimo, se agitato, emette un rumore simile ad un sibilo che in realtà equivale ad un avvertimento per eventuali predatori. Il cibo del serpente a sonagli consiste principalmente in piccoli mammiferi, ma vengono catturati anche uccelli, anfibi ed altri rettili. I serpenti a sonagli maschi cercano di conquistare l'interesse di una femmina effettuando complicate danze rituali e poi si accoppiano con essa.